Sebastian Giovinco la formica atomica perché lo chiamano la formica atomica è bruttissimo è bruttissimo ovviamente sì è piccolino e bravo e mi pare che sia nata a Empoli nel periodo in cui lui giocava se non sbaglio potrei sbagliare in ogni caso è chiaramente conseguenza della sua statura non chiaramente eccelsa e del fatto che tecnicamente come dissi è il migliore di tutti dal punto di vista tecnico non esiste un giocatore alla Juve che abbia la capacità sul breve specialmente di dribblare via dicendo di palleggiare come ce l'ha Giovinco che è favorito in questo dal baricentro molto basso per cui tutti quanti i bassotti di solito hanno facilità di palleggio di scatto sul breve e un messino la via un messino magari ino 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 molto molto ino anche perché fisicamente è vero che Messi è piccolo però è più robusto c'è un altro fisico direi a parte va bene le capacità siamo vicini a Pasqua non possiamo bestemmiare messi e messi e giovinco Esatto esatto buona sentenza Grazie a